Comincia stasera in Polonia la seconda fase dei mondiali di volley maschile, dove è impegnata la nazionale di pallavolo guidata dal cd Paolo Berruto. Arrivata a questa fase con una vittoria e tre sconfitte. Orvana di Zaibisev, gli azzurri affronteranno la temibile Serbia, che nella prima fase ha chiuso in testa il suo girone di appartenenza.